Un graditissimo ospite allo Junior Tennis Perugia, sempre un piacere ritrovare Salvatore Bagni che naturalmente gli sportivi di Perugia non solo non hanno mai dimenticato e soprattutto qui allo Junior può degnamente sentirsi di casa. Sono venuto a giocare contro Mariano Tarpani e vincerò facilmente e poi giocherò con suo figlio e perderò facilmente, ovviamente. Sono venuto perché ovviamente lo Junior l'ho sempre conosciuto, è in un contesto meraviglioso nel centro di Perugia, queste erano le strade che io facevo a piedi, dalla stazione salendo erano le mie strade. A Perugia io ci torno sempre, perciò non è che Perugia. Il luogo, la zona era tantissimo, io penso che forse 40 anni, 40 anni che non venivo più lo Junior, adesso so che c'è un amico col quale si è sempre stato in contatto, perciò ho avuto l'onore di averlo a casa qualche giorno fa con la moglie, ci siamo divertiti, abbiamo ricordato, senza nostalgia ma col piacere di essere stati tanto tempo insieme, soprattutto di essere stata la persona, la famiglia con la quale ho condiviso praticamente tutti gli anni della mia permanenza per oggi.